Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Ritratti dimenticati. Il personaggio di cui vi voglio parlare oggi è un medico e uno scienziato. Si chiama Vincenzo Tiberio. Vincenzo Tiberio nasce a Sepino, in Molise, il 1 maggio 1869, in una famiglia benestante. Il padre, Domenico Antonio, è un notaio e la madre, Finomena Guacci, appartiene ad una famiglia agiata dedita al commercio. Quando Vincenzo e il fratello Sebastiano sono ancora bambini, la madre muore. Il padre, successivamente, si sposa con Rosa Palladino di Guardiaregia, figlia di un medico, con il pieno consenso di entrambi i figli. Tanto che Vincenzo metterà nome a una delle sue figlie, appunto Rosa. Vincenzo frequenta Sepino durante l'infanzia e l'adolescenza. Frequenta infatti le scuole elementari e le medie ginnasiali, frequentando il ginnasio Catone. Nell'anno scolastico 1883-1884 sostiene l'esame di licenza ginnasiale presso il liceo Mario Pagano di Campobasso, superandoli brillantemente. Pare che fosse molto bravo in greco. Ottenuta quindi l'ammissione al liceo, si trasferisce a Campobasso e consegue il diploma nell'anno 1889. Dopo il diploma si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Napoli. Per frequentare l'università si trasferisce dagli zii ad Arzano perché la sorella del padre aveva appunto sposato un uomo di Arzano, il signor Granini. Qui conosce la cugina Amalia Teresa ed è subito un colpo di fulmine. I due si innamorano, però vedremo il matrimonio. Avverrà solo molto più tardi, per tutta una serie di questioni. Prima ancora di terminare gli studi di medicina, egli comincia a frequentare l'istituto di igiene dell'università di Napoli, dove impara molto presto metodiche di laboratorio, soprattutto in campo batteriologico e chimico. Nel 1892 ottiene la nomina a studente interno dell'istituto di igiene e nel settembre 1893, in anticipo sul piano di studi, si laurea in medicina. È proprio in quegli anni che Vincenzo Tiberio fa una scoperta che poi sarà fondamentale per l'evolversi della farmacologia e della medicina. Cioè, osservando il pozzo della sua casa di Arzano, nota infatti una circostanza, che i suoi parenti si ritrovavano esposti a infezioni intestinali tutte le volte che il pozzo, dal quale si attingeva l'acqua per bere, veniva pulito dalle muffe, mentre i malesseri sparivano quando il pozzo si riempiva ancora dei vicini. La generale intuizione del medico è quella di collegare i due fenomeni, cosa di cui troverà conferma poi nelle sue azioni di ricerca in laboratorio. Neolaureato, quindi a questo punto poi si laurea e si iscrive al corso di igiene pubblica per aspiranti ufficiali sanitari, dove partecipa sia come corsista ma anche come docente, avendo ricevuto la carica di assistente volontario. Nello stesso anno pubblica sugli annali dell'Istituto di Igiene Sperimentale dell'Università di Roma il suo primo lavoro scientifico, esame chimico-microscopico e batterioloscopico di due farine latte italiane. Nel giugno 1894 partecipa al concorso per titoli per diventare ufficiali sanitari del Comune di Campobasso, ma non viene promosso. Nel mentre diventa però assistente ordinario con una nomina annuale rinnovabile presso l'Istituto di Patologia Medica Dimostrativa dell'Università di Napoli, diretta dal professor Gaetano Rummo. Allora qui il lavoro è tanto perché egli non solo si deve occupare della didattica, ma è obbligato tenere aperto un ambulatorio pubblico ogni tre giorni alla settimana e soprattutto l'incarico più interessante è sicuramente quello di tenere la redazione del giornale scientifico della riforma medica, che pubblica articoli sia firmati da medici e scienziati italiani, ma anche internazionali. Tra l'altro tradurrà dal francese parecchi lavori, 180 articoli, molti dei quali dal francese. Tra le recensioni vi è anche quella di un suo articolo, perché nel 1895 sulla rivista Annali di Igiene Sperimentale, diretta dal professor Angelo Celli a Roma, viene pubblicato il suo articolo sugli estratti di alcune muffe, che è un po' dove pubblica i risultati di queste ricerche. Il testo, che verrà poi accolto anche dalla Università di Napoli, rappresenta la sintesi del suo lavoro di isolamento e classificazione di ceppi di muffe, l'analisi della loro azione battericida sperimentata sia in vitro che dal vivo, e di una preparazione di una sostanza dagli effetti che noi adesso chiameremo antibiotici, antesignana della penicillina. Purtroppo questo articolo pubblicato su questa rivista scientifica romana cade nel dimenticatoio. Indifferenti rimangono gli ambienti accademici italiani e apparentemente anche quelli internazionali. Però, stando a quanto raccontato al Corriere della Sera nel 2011 dal medico Giulio Capone, che è nipote dello scienziato molisano, il premio Nobel Ernest Boring Chain avrebbe infatti rivelato in un'intervista che Alexander Fleming, poi premio Nobel 1945, appunto per la scoperta della penicillina, insieme a Dawa Flurry e lo stesso Ernest Boring Chain, era a conoscenza dello studio di tiberio sulle muffe, sebbene non lo abbia mai ammesso apertamente. Notizia che non ci deve stupire, perché in realtà, in quegli anni, ma devo dire, probabilmente in tutta la storia dell'Università di Napoli, l'Università di Napoli era un centro di studi medici di rilevanza internazionale. Il nostro tiberio deluso dell'atteggiamento accademico decide di lasciare l'Università e di partecipare a un concorso di ufficiale medico della regia marina militare. La scelta è dovuta non solo a delusione per lo scosso interesse verso le sue ricerche, ma anche per la questione dell'amore con la cugina Amalia Teresa Graniero. Questo amore era ricambiato, ma il problema dei due innamorati era la paura del vincolo di consanguinità e il rischio di una prole con problemi di endica. e quindi in quel momento, ai due, la cosa sembrava insormontabile. Tiberio quindi prende servizio nel 1896 con il grado di medico in seconda classe e viene assegnato al terzo dipartimento marittimo. Sono anni di grandi viaggi in giro per mondo che gli consentono però di fare esperienze mediche molto molto importanti. Nel febbraio dello stesso anno è imbarcato infatti sulla nave da battaglia Sicilia che viene inviata a Creta perché sono scoppiati dei contrasti tra la comunità greca e quella turca. Sulla nave vi è una squadra internazionale di cui fanno parte militari della Germania, dell'Austria, della Francia, l'Inghilterra e della Russia. Una volta arrivati a Creta, il medico deve occuparsi della disinfestazione degli alloggi dei Madunai e del risanamento della rete idrica dove vi sono infiltrazioni pericolose per la potabilità dell'acqua. Quindi ancora una volta l'interesse verso l'acqua. Affronta numerosi casi di tifo, paratifo e disenteria distinguendosi per il suo modo di operare e per l'efficacia del suo metodo. Tanto che riceverà una lettera d'encomio dallo statista greco Eleuterios Venizelos e riuscirà a guadagnarsi la stima di entrambe le fazioni in Londra. Rientrato in Italia nel 1898 viene assegnato all'ospedale della Marina di Venezia, prima nel reparto venereo e poi in quello chirurgico e infine arriverà al laboratorio di analisi. Durante questo incarico scriverà moltissimi studi scientifici. Nel dicembre del 1900, su sua richiesta, si imbarca sulla cannoniera Volturno diretta in missione a Zanzibar. A causa di un'epidemia di Vaiola, la nave però è costretta a fermarsi alla fonda per nove mesi, tempo nel quale Tiberio deve risolvere diverse problematiche a bordo, dalla potabilizzazione dell'acqua, alla dieta dei marinai e alle cure dei numerosi casi di malaria e beriberi. Quando la missione terminerà nel 1902, egli riuscirà a pubblicare infatti un importante studio che si intitola Alcuni casi di Beriberi osservato sulla regia nave Volturno a Zanzibar. Vincenzo Tiberio a questo punto viene promosso ufficiale medico di prima classe e mandato all'ospedale dipartimentale della Maddalena e successivamente sulla nave ospedale Re d'Italia. Sono anche questi anni di studio e di pubblicazione. Nel 1904 viene rimandato, rispedito al dipartimento marittimo. Finalmente, il 5 agosto del 1905, riesce a sposare la sua maglia e questo matrimonio sarà un matrimonio felice nel quale nasceranno tre figlie. In occasione del disastro terremoto di Messina, nella fine dicembre del 1908, il governo italiano invia nella città dello stretto una nave ospedale e su questa nave il secondo nella direzione sanitaria è appunto il capitano Tiberio. La nave imbarcherà più di 2000 profughi e feriti e da Messina, che da Messina verranno condotti a Genova. L'impegno di Tiberio viene premato con la menzione d'onore per essersi segnalato in operosità, colaggio e filantropia. Nell'aprile 1912 assume l'incarico della direzione del gabinetto batteriologia dell'ospedale marittimo della Maddalena. Incarico che però tiene solo otto mesi perché poi viene inviato a Tobruk come direttore dell'infermeria con annesso al gabinetto scientifico. Questo è un periodo molto importante perché riesce a studiare sul campo infezioni di tifo e denteriche e alcune patologie tropicali e da cui poi trarrà dei diversi articoli. I risultati sono positivi perché per tutto l'anno 1913 riuscirà a tenere sotto controllo queste patologie e avrà di fonte soltanto due casi di paratifo B di lieve enti gravi. Questi risultati lo porteranno alla promozione a maggiore. Tornato in Italia nel 1914 diventa direttore del gabinetto di batteriologia e igiene dell'ospedale militare marittimo di Venezia e poi del gabinetto di igiene e batteriologia dell'ospedale della Marina a piedi grotta a Napoli. Questo incarico lo riempie di speranze perché finalmente può dedicarsi con continuità ai suoi studi sulle muffe, cosa che non era stato possibile appunto nei suoi anni di viaggio. Infatti gli studi sull'azione battericida richiedevano molta attenzione e non potevano essere fatti nei ritagli di tempo e quindi è molto e molto contento. Questo però suo approdo definitivo alla ricerca dura veramente poco perché a causa di un infarto miocardico il 7 gennaio 1915 muore a soli 45 anni. Tibero viene completamente dimenticato. La sua figura e le sue ricerche importantissime vengono riscoperte nel 1947 grazie al farmacologo Pietro Benigno che sulla rivista Minerma Medica evidenzia come le sue ricerche sono condotte con tale accuratezza di indagine da meritare un posto fondamentale nella ricerca dei fattori antibiotici. L'anno successivo con molta più risonanza l'ufficiale medico Giuseppe Pezzi recupera invece il citato articolo del 1895 sulle muffe restituendo dignità scientifica alla scoperta di Tiberio e iniziando un percorso di rivalutazione del medico e che ha il suo come dire definitivo riconoscimento nel 2006 quando i nipoti Vincenzo Martinez e Anna Zuppa Covelli pubblicheranno il libro La vita e i diari di Vincenzo Tiberi. Da quel momento lì poi è tutto un intestargli strade e offrirgli riconoscimenti. Infatti a lui sono dedicato ben quattro strade, una a Roma, una a Campobasso, una a Napoli ed una a Larsano e nel 2007 l'Università del Monise ha organizzato una giornata celebrativa in suo nome e dal 2015 la stessa università gli ha dedicato il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute. Quindi il povero Tiberio poteva essere un premio Nobel ma purtroppo non è andato così. Va bene si chiude qui questa puntata di Dittati Dimenticati, io vi do appuntamento alla prossima. Ciao!